Scusate, una domanda, voi siete abitudinari? Adesso passerà il microfono per raccogliere le risposte di un singolo spettatore che deve seguire di patica. No, lo chiedo perché non ho le idee chiare neanche io, nel senso che io sono potenzialmente molto abitudinario, mi piace ripetere le stesse cose, i piccoli gesti, non quelli quotidiani, ma i propri intimi, quelli personali, quelli che so che o meno solo io, perché ripeterli mi sembra che mi dia una sorta di protezione, di sicurezza. Poi però nella vita personalmente non me lo posso permettere di essere molto abitudinario, ma forse alla fine è un bene, perché quando sei troppo vincolato alla tua routine finisci per aprirti difficilmente al nuovo, a non vivere realmente. Insomma in realtà la questione non l'ho risolta, non lo faccio neanche nella canzone che sto per fare, quindi apriamolo totalmente in utile. Grazie. 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 Dimenticare, dimenticare, dimenticare Pi, 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 pi La ripetitività disegna un mondo che so Prevede ciò che sarà Perché se c'è c'è già è tutto quel che ho E non è brigevia Se posso andare, posso dare via Ripeti insieme a me, si può rivedere Se si rivederà, so che mi capirà Ripeti insieme a me, si può rivedere Se si rivederà, so che mi capirà Ripeti insieme a me Ripeti insieme a me Ripeti insieme, insieme, insieme Insama, insama...